Far conoscere la necessità di essere e fare sistema, mettere intorno ad un tavolo il mondo delle best practice, evidenziare l'importanza del capitale umano, sono i tre punti principali su cui si è concentrato l'evento innovazione e sostenibilità. La fabbrica del futuro è intelligente, svoltosi a materia su iniziativa del cluster Lucano Automotive. Un approccio indispensabile, ora più che mai, in quanto calato in un momento storico cruciale come quello della doppia transizione ecologica e digitale. Una sfida possibile, emerso, a patto di fornire gli adeguati strumenti di sostegno alla riconversione industriale delle imprese. Per fare questo è necessario un ecosistema dell'innovazione maturo, in grado di favorire il giusto grado di interazione tra industria, piccole e medie imprese, scuole, università, centri di ricerca, pubblici e privati e istituzioni. Grande opportunità per tutti noi, PMI, piccole, medie e grandi industrie, da una parte. Abbiamo voluto anche i giovani presenti perché è fondamentale che loro già da ora possano acquisire maggiore consapevolezza di quanto sia bello iniziare a conoscere il mondo dell'impresa. E quindi abbiamo voluto mettere a valore tre format. Il primo, quello di far conoscere ai presenti, ancora di più, quanto sia necessario essere sistema e fare sistema. Con testimonianze importanti, con l'obiettivo di costruire un percorso di scambio, di confronto, dove conoscenza ed esperienza possa costruire fiducia e dalla fiducia iniziare insieme a costruire progettualità nuove, tutte orientate ad una mentalità sempre più innovativa. Quindi investire in ricerca e sviluppo significa caratterizzare la nostra proposta di prodotto barra servizio in maniera tale da essere riconosciuti dai mercati nazionali e internazionali, non solo per un prezzo ma per una soluzione. Dall'altra parte invece abbiamo voluto mettere intorno a un tavolo anche il mondo delle best practice, quindi raccontarci le aziende lucane e aziende nazionali che si raccontano, trasferiscono il loro sapere in maniera serena, sempre nell'area dell'innovazione, ai presenti e a tutti coloro i quali ci stanno ascoltando e vedendo e la terza non potevamo non includere l'importanza di valorizzare il capitale umano e tutta la grande area dell'educational, per questo la presenza anche dei ragazzi, in maniera tale che loro possano essere inseriti sempre meglio all'interno delle nostre organizzazioni anche grazie ai cosetti percorsi PCTO, alternanza, scuola lavoro. Emersa la necessità che le fabbriche del futuro siano non solo più intelligenti, questo ormai è ineludibile, ma che questa intelligenza tenga al centro la persona e quindi tutte le nuove tecnologie, le nuove azioni tecnologiche che devono essere sostenibili non devono essere solo l'obiettivo, ma devono essere le lenti attraverso le quali si progettia il futuro, perché sia sostenibile è necessario che le persone però stiano al centro, quindi è un incontro importante, quello promosso dal cluster automotive, perché si fa il punto appunto sulle innovazioni che anche in questa regione hanno visto la luce e sulle politiche regionali e nazionali che necessitano per creare un ecosistema del digitale che in qualche modo ci faccia accelerare rispetto a delle diseconomie anche invece che rimangono a distanza di tanti anni presenti, che sono quelle più annose, quelle infrastrutturali che certamente condizionano la crescita economica e sociale delle nostre imprese e della nostra regione. Un bellissimo evento che dà la possibilità a tutti gli attori e i protagonisti del mondo della produzione delle auto di interagire e di confrontarsi sugli scenari futuri, è una fase di grande transizione, di grandi modifiche, c'è bisogno di tutti e che ognuno faccia la sua parte per poterne uscire forti come prima o magari più di prima. Siamo fiduciosi e stiamo mettendo in campo tutto ciò che l'ente regione basilicata può mettere, oltre a questo siamo andati anche in Europa a creare un'alleanza delle regioni produttrici di auto e siamo in costante contatto anche con il governo italiano che sono certo farà la sua parte. La transizione si inserisce in un contesto di grande incertezza e grandissima complessità. In più in Italia scontiamo anche un problema che rispetto ad altri paesi europei, anche competitors diretti, abbiamo un volume di produzione di veicoli che è molto basso. Noi oggi nel 21 abbiamo consultivato circa 780 mila veicoli prodotti rispetto ad esempio la Spagna che ne ha 2 milioni, alla Francia 1 milione e 4, per cui è un ulteriore tema che si aggiunge all'incertezza che ho citato prima. Sicuramente la transizione va fatta, noi dobbiamo decarbonizzare il settore di trasporti anche per creare un pianeta più pulito per i nostri figli, per i nostri nipoti e questo è assolutamente assodato. Quello che noi diciamo è che forse avremmo potuto gestirlo in maniera diversa, magari inserendo anche il concetto di neutralità tecnologica, non andando su un'unica tecnologia come l'auto elettrica, ma magari chiedendo il contributo anche ad altre tecnologie, per esempio biocarburanti, carburanti sintetici che possono dare un contributo importante anche come riduzione della CO2 e che hanno il vantaggio di poter mantenere anche il motoro endotermico al 35. Mentre invece l'Europa ha fatto una scelta diversa, dobbiamo comunque prenderne atto e adesso comunque lavorare per gestire in maniera proattiva e responsabile questa transizione. Una bellissima iniziativa dove il cluster, Antonio che è il presidente del cluster ha portato, quindi la cosa veramente importante è avere tutti questi giovani. Noi che parliamo appunto di tecnologie, di tutto quello che il mondo sta portando avanti con tutte le grandi tecnologie, sviluppi e tutte le problematiche che abbiamo, avere in platea tutti quei giovani veramente è stata un grande iniziativa che per me è molto importante. Questo è un appuntamento molto importante perché è un cluster che per la regione Basilicata ha una rilevanza notevole e la presenza dei giovani ci fa comprendere il rapporto a tutti i progetti innovativi che già esistono nel cluster dell'automotive quando necessariamente vadano a essere messi a sistema perché come dice il presidente Somma devono essere sistema e questo è quello che noi ci auguriamo perché i progetti innovativi che sono nel cluster poi devono essere realizzati tramite le giovani generazioni.